Ciao amici di Qt&Chic, benvenuti in un nuovo favoloso video. Questo è il mio primo video, non è vero, cioè è il primo video che faccio con il mio nuovo iPhone XS Max. È lunghissimo il nome, iPhone XS Max, cioè l'iPhone più gigantone che c'è esiste. E vedo già che il mio faccione si vede benissimo. Ciao a tutti! Sì, spero che i vostri dispositivi con cui mi guardate siano più piccoli, in modo che tutti i difretti del mio viso, che sono parecchi, non si notino. Comunque siamo qui per fare un nuovissimo unboxing! Io sono la Vale e apro finalmente, dopo tanto ritardo, perché oggi è ben il 7 di novembre, la Doki Doki Crate del mese di ottobre. Happy Halloween! Dunque, direttamente dal Giappone, del mese di ottobre 2018, la Happy Halloween della Doki Doki Crate by Japan Crate. E il sito è questo, così, io ve lo faccio vedere direttamente qui, perché sono una che sono pigra, non c'ho voglia di scrivere nell'info box. Comunque, dai, ci siamo capiti, se guardate i miei video, voi dieci che guardate i miei video. Comunque, la Doki Doki Crate del mese di ottobre si presenta così! Ta-da! Woo! Ah! Wow! Allora, questa è la cartolina della bimba travestita da Halloween. E all'interno ci sono le cose. Dunque, protagonista assoluto, non lo so chi è. Comunque, tiro fuori la prima cosa che tiro fuori è, adoro, è un bellissimo pupassino di Kuromi, di quelli tipo Tsum Tsum, però, della Sanrio. Di Kuromi, che è la cugina cattiva di My Melody, con a tutti i bellini, pom pom qua. È adorabile, bellissimo! Ce l'ho qualcun altro qua in giro? Sì, qua! Esatto! Ce l'ho così qua, che sono Hello Kitty e Dear Daniel. E adesso abbiamo anche Kuromi, che si metterà qui sopra, perché lei deve essere la cattiva e deve dare fastidio agli altri, quindi... Eh, col teschietto qui davanti ricamato, no, è adorabile. Bellino! Questo non ho niente di Kuromi, quindi grande. Poi, un'altra cosa che vedo che... È un gattino adorabile che si chiama Gatto Nero, Black Cat Purse. Ah, guardate! Ha l'ombelico il gattino ed è una borsetta! Tadà! Non so cosa ci metto qui dentro, però... Non ci sta niente, forse ci riesco a mettere, di sicuro non il cellulare, cioè il gel, per non far venire la... Giusto il ciuccio della baby può starci qui? Un ciuccio? No! È una borsetta un po' piccola, magari qualche... Eh, si presenta così, o me la mette, è anche abbastanza corta, diciamo, per bambini piuttosto piccoli. Come me sta, però? Ok, questo è un fantastico regalo per la Lorelai, che ha quattro anni e ci può mettere dentro il suo ciuccio quando va in giro. E ha un peluche sempre con sé. Comunque, bello. Andiamo avanti. Ciotto! Sempre di Kuromi i calzettini. Che carini! Di dietro sta una righe così, sotto, nel bianco del piede. E davanti, così, della mia taglia giusta. Favolosi! Guardate che belli i calzettini! Questi me li metto subito. Kuromi! Guardate com'è carina! Bellissimo! Poi, andiamo avanti, che abbiamo già tirato fuori in totale uno, due, tre, quattro, cinque cose, ci devono essere. Oh! Questi sono veramente favolosi, però sono degli stossicadenti da bento a forma di gatto nero che si mettono, praticamente, tipo, si mettono nel bento per tirar su le verdure o, in questo caso, possiamo mettere negli sottaceti per tirar su le olive e sono veramente adorabilissimi. Normalmente non uso queste cose, però penso che alla prossima festa li tirerò fuori perché questi qui sono veramente troppo belli con questi gattini. Cioè, guardate i gatti quanto sono adorabili! sono troppo belli! Oppure gli rompo le zampe li faccio diventare corti e li metto dentro la resina. Che adorabili! Ma questi sono adorabili! Ma io li uso! Vabbè, andiamo avanti. Ultimo, ma non meno importante Adoro! A-do-ro! La borsa nera col velcro! Sì! È una borsa di tessuto, non tessuto, plastificato di nera di Little Twin Stars Lo faccio vedere lontano Guardate che carina! E che ci puoi mettere la spesa! Loro per Halloween immaginavano che ci mettevamo le caramelle ma ovviamente non ne avevamo già una proprio specifica di Halloween. Comunque io adoro Little Twin Stars Adoro il nero in questo momento e è favolosa quindi questa number one Bene! Per la aspettate un attimo che questo finisce qui si è fatto così non è che si apre non è che c'è un poster no? Ok! Per la Doki Doki Crate del mese di ottobre del 2018 questa era la cartolina abbiamo trovato la bellissima Kuromi gli stossicadenti a forma di gatto nero che sono adorabili la borsetta a forma di gatto che nera adorabile i calzettini di Kuromi che adoro e la borsa di Little Twin Stars quindi io dico che mi posso ritenere al 200% soddisfatta di questa box che mi piace tantissimo sono già 6 minuti quasi 7 che vi sfracasso le scatole con i miei unboxing vi do un grandissimo bacione e se volete voglia iscrivetevi al nostro canale e oggi penso che pubblicherò 3-4 video quindi yeah viva gli unboxing specialmente gli unboxing Halloween un bacione da Vale ciao 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 ciao